e la vado a pulire ovviamente le due sono delle altre poi faremo con le patate togliamo testa testa tagliata testa testa tagliata 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 subito che gli effetti non li amassi, però a volte mi devi prendere il cross e rilasciare il punto a voglia di manzani e il po' di limite e il po' di resta e la nave e il po' di limite